Ciao a tutti, oggi prepareremo la confettura di prugne. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono prugne denocciolate, zucchero semolato e il succo di un limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le prugne e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 5. Prendiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo lo zucchero e il succo di limone. E azioniamo il bimbi per 35 minuti. Temperatura varoma, velocità 2 con il cestello al posto del misurino e in caso di tm6 il paraschizzi. La confettura è pronta, trasferiamola subito in vasetti sterilizzati. Una volta riempiti i vasetti, chiuderli immediatamente, rigirarli sotto sopra e lasciarli raffreddare del tutto prima di rigirarli nuovamente. Confettura di prugne. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!